Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Allerta maltempo oggi in Toscana fino alle 21, raffiche di vento forte e possibili brevi temporali con grandinati, raccomandata la massima prudenza. In A15 coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma per incidente già risolto, coda tratti dovuti al traffico intenso in A1 in direzione Bologna tra Chiusi e Incisa Reggello e tra Firenze in Pluneta e il BVA1 variante. Guasto all'impianto benzina verde della stazione di servizio Badia Alpino Est al chilometro 362 e 500 in direzione Bologna. Ancora visaggi per incidente in Fipili tra Empoli ed Empoli Ovest in viaggio per Livorno al chilometro 29 e 400. Muoversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!